La possiamo chiamare ormai Zirkzee Mania, infatti il centroavante appunto classe 1-1 del Bologna è ricercato da moltissimi club in Europa, ma dobbiamo fare un pochino una sorta di recap generale perché comunque ormai ricostruire la forma di trasferimento di Zirkzee è un po' tosta, è un po' ardua perché ci sono tante piccole clausole e clausolette che insomma possono inficiare appunto eventuali trattative provo in questo video a fare un recap generale e poi lo andrò a contestualizzare in una squadra italiana perché questa squadra si è molto palesata, più che altro ha palesato il suo gradimento, verso il centroavanti ex Bayern di Monaco quindi nel 2022 il Bologna prelevato per 8.5 milioni di euro dal Bayern di Monaco, Joshua Zirkzee dopo il trasferimento diciamo così è stata inserita nel contratto una clausola di 40 milioni di euro che però stando anche a quanto ha detto Marco Di Vaio, questa clausola va da soltanto per il Bayern di Monaco mentre per gli altri club insomma il prezzo è libero inoltre il Bayern di Monaco si è anche assicurato il 50% sulla futura rivendita quindi queste clausole non sono assolutamente di poco conto perché comunque rischiano di fare lievitare il prezzo in modo clamoroso se il Bayern di Monaco decida di riscattare il giocatore quindi di riprenderselo per 40 milioni di euro in quel caso il Bayern è libero di decidere se tenerlo come riserva diciamo così di Kane oppure di cederlo nuovamente una cifra molto superiore come molto non intendo 80 milioni però almeno una cresta di 20 milioni se li vorrebbe fare secondo me il Bayern di Monaco quindi il prezzo salirebbe a 60 qualora poi il Bayern di Monaco non volesse riscattare il giocatore ma volesse lasciare appunto al Bologna e il Bologna sarebbe poi eventualmente chiamato a cederlo il Bologna dovrebbe vendere il giocatore in modo sovrapprezzato quantomeno per garantirsi la somma che il Bologna vuole se il Bologna vuole 30 milioni di euro deve vendere lo 60 se vuole ricavarci 40 deve vendere l'80 avevo letto qualche parte che però il 50% era da considerare sulla cifra eccedente ma defalcato gli 8.5 milioni di euro ora al di là di questa piccola postilla eventuale c'è il discorso che sicuramente il Zergze sarà un giocatore molto 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 caro nell'estate 2024 e sembra che appunto il Milan abbia messo gli occhi sul giocatore ora dire che il Milan possa avere la potenza economica per assicurarsi di Zergze è molto arduo perché nel calcio moderno sborsare una cifra per un giocatore sui 60 milioni di euro eventuali serve veramente tanta roba e secondo me nessun club italiano si può permettere di sganciare cash 60 milioni di euro poi c'è il discorso anche di Sele Mekere infatti si è parlato che il Milan volesse inserire il cartellino di Sele Mekere per abbassare le pretese del Bologna vediamo se insomma il Tegomotta o un eventuale futuro allenatore direbbe venire in rosa Sele Mekere perché è anche vero che è un esterno di attacco ma che ha ben pochi gol nei piedi di conto Zergze per il Milan sarebbe secondo me un super acquisto perché è un giocatore che si attende perfettamente alla struttura di attacco di adesso del Milan in primis perché comunque il Milan gioca con un 4-3-1 che è un modulo al quale Zergze è abituato in primis, cioè in secondo luogo Zergze farebbe quel ruolo di punta completa da regista offensivo che aprirebbe gli spazi per il Ferguson Mianista quindi per il Loftus-Cic e abbiamo visto che Loftus-Cic negli spazi e negli inserimenti in area di rigore è veramente un grandissimo giocatore se il fisico lo assiste in più c'è il discorso che aprirebbe quegli spazi per gli esterni del Milan e quantomeno se noi intendiamo come esterni il Pulisic della situazione potenzialmente Tocafor, potenzialmente Leao sono tutti giocatori che hanno i gol nei piedi non dico Ciukwese perché comunque devono adattarsi bene insomma non vede strano una cessione eventuale quella dovesse veramente fallire in Italia però insomma diciamo che Zergze al Milan lo vedrà molto bene per questi motivi perché il sistema di attaccare del Milan è molto simile a quello del Bologna intendo relazioni ai giocatori a disposizione di Pioli o di eventuali altri allenatori futuri sicuramente Zergze è un tipo di attaccante come ho detto più volte sul quale deve essere costruito l'attacco se poi si vuole dare un'impronta a Zergze che esula dal suo modo di essere dal suo DNA calcistico va in difficoltà certo dovrebbe essere chiamato lo stesso percorso che ha fatto Vlaovic quindi per Zergze aumentare le fecce al suo arco quindi imparare altri modi di attaccare l'area di rigore quindi nutrire un pochino quella sua vena che adesso ancora gli manca quindi il finalizzatore del bomber di Ibrahimovic ultima maniera diciamo così gli potrebbe essere molto utile poi giustamente quando un giocatore deve adattarsi deve appunto portare avanti o meglio nutrire appunto delle vene che sono un po' sopite diciamo che gli andrebbe comunque concesso un periodo di adattamento ma andando a stringere io lo vedrei veramente benissimo Zergze al Milan sotto ogni punto di vista sicuramente il fattore economico inciderà molto perché ripeto bisognerà vedere l'intro di il Milan il mercato in uscita e eventualmente il Milan contando che il Milan secondo me dovrà anche agire quanto meno per un difensore di livello perché abbiamo visto nelle ultime partite soprattutto in quella persa con il Monza Defiance a destra manca che affrontare una Serie A e un Europa con Tomori che è ok con un Kier che comunque è un parabolo discendente vi ricordo che è un 89 quindi quest'anno fa 35 anni con un Chao che dopo l'infortunio è ancora assente a riprendersi con un Gabbia che tutto è fuori che secondo me un difensore veramente di livello in più rientra Pellegrino dal paese della Serenitana che ad ora è più una sciagura che altro insomma un difensore il Milan secondo me lo dovrà prendere ma dovrà essere votato anche il mercato in uscita in funzione eventualmente anche di una volontà di effettuare un investimento importante su Zergze perché un attaccante al Milan serve come il pane quindi Zergze lo vedete benissimo a fare la spola con Giroud a fare la staffetta con Giroud certo avere uno Giroud comunque a 38 anni ormai e sì potrebbe fare un pochino la chioccia Zergze ma Zergze sarebbe chiamato a rappresentare direttamente la titolità nel Milan perché non si può pensare che Giroud faccia un altro anno quindi la stagione 24-25 la titolata a 39 anni sarebbe veramente una follia e poi onestamente di Jovic mi libererei perché ha avuto dei picchi alti ma non devono essere intesi come fumano gli occhi o meglio non devono essere valutati male dai tifosi e dai detti lavori perché se tu su 50 partite dico dato X 50 partite fatte male nei giochi 4-5 bene di fila ragazzi le altre 45 non devono andare cancellate semplicemente bisogna capire qual è il reale valore del giocatore secondo me Jovic non è assolutamente da Milan vi ricordo che è stato un piano B dopo non essere arrivato a Taremi quindi onestamente Jovic lo sacrificerei cercherò di monetizzare quel che è possibile e poi eventualmente farei lo sforzo per Zergze ma di contro bisognerà il Milan dovrà valutare molto il mercato in uscita perché senza secondo me uscite importanti Zergze sarà molto difficilmente sarà molto difficilmente raggiungibile più che altro però insomma lo vedo lo vedrei molto bene nel Milan fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi